per il sesto posto in vista dei play-off. Vis Pesaro-Montevarchi e lo Stadio Benelli, i bianco-rossi sono al nono posto, i toscani provano a rimontare. Infine la fermana, attualmente in zona play-out, è di scena e imola dove serve una vittoria a tutti i costi. Volley, la Megabox festeggia la salvezza nel campionato di A femminile. Pierpaolo Rivalta. La Megabox perde e festeggia, già salva dopo l'impresa di metà settimana nel recupero giocata a Roma, Vallefoglia chiude la stagione in casa, nuovamente contro le Romane. Gara in 5-7 a pannaggio delle ospiti, 12-15 il tie-break. Ma sul 2-1 per la Megabox i giochi sono fatti, Roma retrocede e la partita non ha più nulla da dire, tanto che Bonafede cambia il sestetto dando spazio a tutte le ragazze. Carcassess, Bielizza e Cosareva le protagoniste. Dopo l'anno da neopromossa, ora Vallefoglia vuole mettere radici in Serie A puntando obiettivi più alti. Nel dopogare il presidente Angeli si presenta con Cosceleva e la prima notizia è che si riparte dalla capitana, già in fase di recupero dall'infortunio e confermata per la prossima stagione. Ce lo siamo meritati, abbiamo sofferto ma ce lo siamo meritati. Ripartiamo con delle basi e degli obiettivi ancora più alti, alzeremo la lasticella per provare a diventare una squadra di livello superiore. Anche Bonafede celebra la squadra e la salvezza in un'annata complicata da infortuni e assenza. Il futuro ora appare più rosa. Adesso pensiamo al futuro, vorremmo fare una squadra che possa salvarsi tranquillamente e ambire stabilmente a un posto playoff. Adesso vediamo che cosa dice il mercato perché comunque vorrei tenere un nocciolo e aggiungere tanta qualità. Ultimo giorno nelle piazze italiane per trovare le uomini